Sanremo 2022, la prima serata del festival più amato e discusso d'Italia, ma sicuramente l'amore ha vinto sulla discussione, la prima serata si è chiusa con il 54% di Cher, 11 milioni di telespettatori. Amadeus ci ha proposto un bel viaggio variegato nel mondo della musica, ma il festival non è stato scevro da errori e scelte incomprensibili. I punti forti della prima serata, il tributo all'immenso poeta Franco Battiato, i Maneskin che ritornano sul palco di Sanremo come ospiti internazionali, belli, sensuali e sessuali in pelle nera per Zitti e Buoni, il brano che li ha portati sul tetto del mondo, eleganti e sofisticati in taglier per Coralline. Ma al di là di questo stile camaleontico e sempre vincente, è l'artisticità di questi ragazzi che colpisce e che fanno capire quanto stanno nel gioco, si pensi alla commozione di Damiano alla fine del brano Coralline. Bella anche la parentesi elettronica dei Medusa. Restando nell'ambito dei super ospiti, invece anche quest'anno Di Martino e Colapesce non hanno avuto il trattamento che avrebbero meritato. Lo scorso anno hanno ricevuto il premio Lucio Dalla che gli è stato consegnato nel corridoio dei Camerini. Quest'anno sono stati ospitati a bordo di Costa Toscana, nulla contro la nave a parte del gioco del festival, ma almeno dategli la musica dal vivo. Musica leggerissima, è una hit eterna, cinque platini, tanti primi posti in classifica, in tante classifiche diverse. A quel punto dategli l'onore che merita. Ma il fatto che a Sanremo non siano proprio in grado di consegnare premi al di là del premio del festival di Sanremo che viene dato al vincitore, si è capito ieri sera quando dopo 40 minuti che i Maneskin avevano lasciato il teatro, Harrison, Amadeus è spuntato sul palco con questo prestigioso premio che la SIAE ha dato alla band, ai Maneskin, un grande foglio d'oro su cui hanno riscritto la prima canzone che i Maneskin hanno depositato. Sarebbe stato bello avere una foto ricordo su quel palco. Ci auguriamo che questo premio sia stato dato ai Maneskin prima che lasciassero Sanremo, almeno riescono a farsi una foto nella città che ospita il festival. Carrellata sugli artisti in gara sono parzialmente d'accordo con la classifica della sala stampa. In seconda posizione avrei messo Orcomi, immediatamente dopo Mahmood e Blanco che mi auguro restino in prima posizione sempre. La rappresentante di lista un terzo posto, Massimo Ranieri l'avrei messo prima di Gianni Morandi. Con lui sul palco è arrivata la potenza della musica e del teatro e gli si perdona anche la steccata perché l'emozione non ha età. Un po' più sumi che erano bravi. Condivido il dodicesimo posto di Anna Mena che per me è proprio una fuoriclassifica. Non capisco la sua presenza su quel palco senza un filo di voce, un microfono carico di effetti. Se l'obiettivo di Amadeus era quello di mettere una rappresentazione della giovane generazione femminile avrebbe puntato sulla Nina del Sud e avrebbe fatto bingo. Non ho capito che problemi ha avuto Giussi Ferreri, ha cantato malissimo, non so se era senza voce o le hanno tarato male il microfono. Mi delude un po' Achille Lauro che in realtà mi piace tantissimo. La sua domenica sembrava una Rolls Royce un po' sotto tono. Darjean D'Amico mi è simpatico però mi ricorda un po' Tricarico e a me non piacciono i rimandi artistici. Noemi con la sua Tiamo non lo so dire poteva essere più potente. Human in undicesima posizione ci sta. Il festival di Sanremo 2022 mi dà l'opportunità di unire i miei due grandi amori, la musica e i libri. Noemi è sul palco dell'Arison ma è anche in C'era una prima volta, un libro pubblicato da Roggiosi Editore, scritto da Claudio Guerrini, che coinvolge una serie di personaggi fantastici nel racconto delle loro prime volte. Noemi in questo libro racconta quando ha capito la prima volta in cui ha capito che voleva cantare anche per gli altri, la prima volta che ha ascoltato una sua hit in radio e tante altre prime volte. In questo libro Claudio Guerrini abbandona lo stile intervista, anticipa il racconto fluido del protagonista della prima volta, contestualizzando l'incontro. Altra pubblicazione sanremese che è arrivata proprio alla vigilia del festival il 25 gennaio su tutti gli store digitali, il libro del giornalista Nico Donvito, Sanremo il festival dall'Italia del Boom al Rock dei Maneskin in cui Nico racconta il festival attraverso l'Italia ma anche l'Italia attraverso il festival con i suoi grandi cambiamenti storici. A questo punto ci godiamo la seconda serata e vediamo quanto gli ospiti in scaletta questa sera siano capaci di rimescolare le carte del gioco.